ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già oggi voglio farvi vedere un incisione sull'ardesia sul legno di bambù e su una medaglietta in acciaio nel primo video vi ho fatto vedere il taglio e l'incisione della balsa di legno quella spessa 3 mm vi lascio il link qui sopra in alto per poterlo andare a vedere oppure trovate sempre il link di questo video qui sotto nella descrizione sotto al video in questo video poi vi darò alcuni cenni sulla sicurezza della macchina infatti vi farò vedere cosa accade quando si apre lo sportello oppure premendo il pulsante che abbiamo sulla destra quello rosso bene dunque io direi di metterci al lavoro ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi tutorial mettiamoci al lavoro una volta aperto il programma x tool creative space ho elaborato il mio file e la superficie di lavoro quindi un poligono in questo caso un quadrato dopodiché ho eseguito la misurazione ho impostato poi anche i parametri del materiale e quindi l'incisione da effettuare una misurazione in più è stata quella dell'inquadratura in quanto il materiale che sto utilizzando non ha una superficie perfettamente liscia e livellata dopodiché sono andata a incidere il mio sottobicchiere questa macchina è perfetta per un principiante e ricordo sempre che il mio sottobicchiere è un corpo del laser si può cambiare a seconda delle vostre esigenze e per cominciare penso che il laser da 10 watt o da 20 watt sia davvero l'ideale ho inciso poi il mio sottocandello in bambù eseguendo più o meno gli stessi passaggi ma ovviamente cambiando il materiale se volete chiedere qualcosa in particolare usate i commenti sotto al video ricordo poi che per fissare ogni punto bisogna premere il pulsante di avvio della macchina quello in basso a destra e che tutte queste informazioni potete trovarle nel video di presentazione della il risultato è questo qui e io lo trovo davvero perfetto ho realizzato un video di ho realizzato poi anche il coperchio in bambù che userò con un barattolino per mettere le mie spezie dopodiché ho voluto personalizzare anche un mestolo e ora vi farò vedere cosa succede quando si apre il coperchio o quando inavvertitamente si arresta la macchina dal pulsante rosso che sta sul lato se si apre il coperchio della macchina mentre si è in lavorazione ecco qui la schermata che ci appare inoltre la macchina emette un suono acustico e si blocca dopodiché sono ripartita e il lavoro è ripreso da dove ero rimasta nel caso del pulsante rosso di sicurezza quello che sta al lato della macchina invece è diverso la macchina si spegne proprio quindi bisogna riavviare la macchina e riavviare il processo che inizierà da capo andando a reincidere un'altra volta dove già aveva inciso nel mio caso non ha portato nessun problema infatti il risultato come si può vedere è comunque vada perfetto per quanto riguarda quindi la sicurezza secondo me questa qui è una macchina veramente ottima tanto da poter essere usata in casa se ci sono bambini che potrebbero accidentalmente aprire o sollevare il coperchio devo dire infatti che l'azienda su questo punto qui si è spesa veramente moltissimo l'ultima incisione riguarda una medaglietta in acciaio quindi una volta settati tutti i parametri come in precedenza procedo all'incisione la sensazione che provo usando ogni volta questa macchina è di estrema semplicità infatti io venendo dal cucito creativo all'inizio ero molto molto scettica ma già dall'inizio sono rimasta sorpresa dalla semplicità di utilizzo che dire io sono enormemente soddisfatta dei risultati dei miei test e poi ricordo sempre che il software è completamente gratuito vi ricordo inoltre che potete trovare tutti i link di riferimento qui sotto alla descrizione del video bene dunque a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video ringrazio tutti quanti gli iscritti vecchi e nuovi e non dimenticate di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite dei video poi se il video vi è piaciuto mi raccomando di condividerlo ciao